La vincono, la vincono, quest'anno la vincono, parlo del City eh, parlo del City, non della Juve, secondo me la vince il City quest'anno, l'ho detto anche in una mia live, so che me l'avete chiesto, forse nell'ultima live che ho fatto e ho detto City, quindi l'ho detto prima di questa partita, non è comunque uscito il Real, perché era una squadra del cazzo, una squadra ostica, però secondo me quest'anno la vince il City e qua chiudiamo il discorso, Real City che non ho visto. Allora, Lione e Juventus, Lione e Juventus, mamma mia ragazzi, ma è possibile che ogni squadra che affronti la Juventus, o meglio ogni centrocampo di una squadra che affronti la Juventus, fa invidia a quello della Juve? Cioè, perché poi sì, adesso, Trevisani e Dani quasi, nonostante la loro fede nel secondo tempo, sembrano quasi, secondo me, esaltare un po' troppo la prestazione della Juve nel secondo tempo che ha fatto un minimo sindacale, voglio dire, ha reagito, ma ci mancherebbe. Contro una squadra che è scarsa, il Lione, ha dei giocatori che per caratteristiche possono e l'hanno messa in difficoltà la Juventus, come i due attaccanti, Dembélé è l'altro che mi sfugge il nome e che sono forti fisicamente, sono veloci, per esempio Bonucci è un difensore che va molto in difficoltà contro quegli attaccanti. Poi, secondo me, Sarri ci sta capendo veramente poco, perché sia in Supercoppa con la Lazio sia oggi aveva detto abbiamo fatto l'allenamento migliore di quest'anno e tutto, poi in campo la squadra è messa male, sembra che non segua quello che dice Sarri e secondo me Sarri l'ha letta anche male questa partita, perché contro poi una difesa fisica come quella del Lione serviva una puntala in mezzo, una puntala in mezzo, questo 4-3-3 secondo me non va affatto bene, perché Di Bala, ragazzi, nel secondo tempo, guardiamo la pressione di Di Bala nel primo rispetto al secondo, nel secondo Di Bala ha messo sull'esterno, quelle due trazioni veramente ha fatto impazzire la difesa del Lione, nel primo tempo Di Bala è stato aberrante, sembrava, ha sofferto fisicamente la difesa del Lione, ma lì da falso Nueve, poi si defilava, però zero, cioè Di Bala nel primo tempo zero, perché non può giocare in quella posizione lì, poi Ronaldo nel primo tempo ha creato, è andato due o tre volte sul fondo, è andato a crossare, per chi? Per chi è andato a crossare? Cioè io non ho capito Sarri cosa vuol fare, Quadrada e Ronaldo che mettevano la palla in mezzo, per chi? Per Di Bala? Non credo, Rabiot non è uno che si inserisce, Betancourt non l'ha fatto mai, Piani ce lo lasciamo perdere con un giocatore, Piani poi magari non era il meglio, l'ha tolto per la disperazione, ma un giocatore passivo, un giocatore sì, tecnicamente bravo, ma a me Piani proprio non piace, poi a livello europeo, poi Rabiot ragazzi, Cioè la Juve veramente, io che progetto ha la Juve? Cioè io mi ricordo gli anni scorsi, anni fa, che tutti i giovani in Italia che uscivano erano della Juve, Gabbiadini, Berardi, Caldara e ne ho tanti, poi la Juve andava a prendere anche in giro per il mondo gente come Pogba, gente come Vidal, adesso la Juve è anni che va avanti con questi parametri zero, Cioè ha preso giocatori scarti, scarti del City Danilo, scarti del Paris Saint-Germain, Rabiot a zero, Ram sei a zero, che ragazzi, tre giocatori che hanno deluso, deluso, Non ho guardato i media che dicono che, perché i media purtroppo in Italia tendono sempre a esaltare la Juve, cioè Rabiot ha fatto schifo sei mesi, ha fatto due partite buone, Colcali, adesso non mi ricordo, eh Rabiot sta andando, ma cosa sta andando bene Rabiot, dai, ma l'avete visto, c'è un giocatore che non può giocare a livello europeo, Rabiot, io mi ricordo ancora Real Paris Saint-Germain finito a 2-1 mi pare per il Real e i due gol presi, che signora Rabiot in quella partita forza, però due gol presi per colpa di Rabiot, Giocatore abberrante, poi dico metti prima Bernardeschi, ma provalo Bernardeschi mezzala, tanto Bernardeschi in avanti non gioca, perché tanto a giro stanno i panchini guaine di bala, quindi figurate che si gioca Bernardeschi, in più c'è anche quadrato, e prova Bernardeschi mezzala, provalo, poi secondo me oggi era una partita da tre punte, Io l'ho detto, per esempio, se tu affronti una squadra come la Lazio, in Supercoppa è sbagliato mettere le tre punte, perché vai in inferiorità numerica a centro campo e non te lo puoi permettere, ma oggi era una partita da tre punte, poi in Europa, lo sappiamo che premi a giocare, proporre gioco, poi ripeto, una partita che ci sono stati tanti cross in mezzo da parte della Juve, perché la Juve da fuori non tira, non è riuscita, proprio il Leone si è anche difeso bene, ha messo il pullman davanti alla porta, L'unico modo erano questi cross, e Goeen l'ha messo a venti minuti dalla fine, mettilo prima, o comunque era da mettere dall'inizio, secondo me, quindi i cambi, poi ci stavano quelli che ha fatto Sarim, ma doveva farli prima, e ha dimostrato di aver sbagliato, secondo me, la formazione, l'impostazione iniziale, Poi il gol, vabbè, di Tausar, ha anche un po' la presa male, ha anche un po' fortunoso, però fortunoso fino a un certo punto, perché comunque Tausar era lì solo, era lì solo in mezzo all'ara, certo, voi direte, beh, De Ligt era fuori, e ho capito, però purtroppo è così, Quindi c'è questa regola qui, che il gioco riprende, anche se tu stai medicando e tutto, e vabbè, ha preso gol, bravo Lione a sfruttare, ma il primo tempo del Lione è tanta roba, ha creato altre occasioni, e quindi, voglio dire, non è casuale il gol, anche se, certo, è capitato in un momento che Rindieci è anche un po' sfortunato, Però male la Juve, io penso passi, penso passi, anzi, io mi aspettavo che già oggi vincesse, mi aspettavo una Juve che desse veramente una scossa, anche perché per ora in Champions aveva fatto abbastanza bene, anche se il girone della Juve era facilissimo, quindi io non mi esaltavo, gente che diceva in Europa, percorso fantastico, calma, percorso fantastico, voglio dire, l'Atletico in ribasso, ha battuto Liverpool, va bene, ok, però in ribasso, l'avete visto nel campionato, I Bayern Leverkusen, vabbè, lasciamo per lo comodi, non commento neanche, quindi, l'hanno esaltata troppo, forse, tipico dei medi italiani, poi la Juve, voglio dire, fino al sessantesimo, l'unica piccola occasione è sempre su calcio piazzato, punizione o calcio d'angolo, cioè, era l'unica soluzione della Juve, il gioco della Juve è, palla Ronaldo, lui che dribbla, prende fallo, speriamo di creare un'occasione su punizione o angolo, cioè, veramente, da italiano, da italiano, vedere la Juve che prima inseriamo, la Juve, spero non per molto ancora, giocare così in Europa il Lione, che è una squadra che in Liga sta andando non male di più, oggi, nel primo tempo, è sembrata una squadra fortissima, poi, sì, il secondo tempo l'ha messa sotto la Juve, ma, ripeto, senza creare troppo, quindi, io, penso passi la Juve, nonostante tutto, ma non sarà assolutamente facile, anche perché il Lione, in contropiede, può fare male, boh, ragazzi, sono un po' allibito da questa Juve, ditemi la vostra, bella.